ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video una prova di una nuova power station un marchio nuovo che sicuramente non conoscete che si chiama sanfo un settore chiaramente di interesse per molti produttori dove ormai i marchi nascono come i funghi perché molti hanno interesse a produrre power station soprattutto diciamo quelle un po piccole mi hanno proposto e continuano a propormi un sacco di power station piccole economiche ne proveremo diverse però sempre facendo un minimo di selezione questo prodotto di oggi un marchio sconosciuto sì però l'ho voluta provare a portare sul canale perché perché ha un po più accumulo delle altre parlando sempre di quelle piccole anche se comunque usa una tecnologia di batteria un po più vecchia perché ha delle comuni batterie a litio non ha le life po 4 accumulo però che è di 576 watt ora che è praticamente il doppio delle power station piccole a cui siamo abituati e inoltre ha due prese in uscita che di solito le power station piccole non hanno o che hanno salendo magari al modello leggermente superiore adesso la apriamo analizziamo poi facciamo un po di test facciamo qualche prova e vediamo se può essere utile a qualcosa power station portatile da esterno presa accendi sigari display ingresso dc type c che fa ingresso uscita o type c che fa solo uscita uscita quick charge uscita dc 12 e le uscite ac sull'altra parte abbiamo una luce da campeggio che sembra molto grossa è indicata anche la ventola di raffreddamento null'altro se non le caratteristiche tecniche quindi uscita 110 220 160 mila miliampere ora chiaramente adatta per telefoni piccoli friggitrici tablet pc camera eccetera allora un po di caratteristiche modello ops 600 batterie a litio ok con un pacco da 576 watt ora uscita massima 600 watt con le quick charge sommate in uscita arriviamo al massimo di 18 watt ingresso allora questo è quello che ci può interessare da 5 a 24 volte e mezzo da 2 a 5 ampere in uscita abbiamo 10 ampere sul 12 volt tutti i vari type c uscita accendi sigari 12 13 volt 10 ampere potenza del led 11 watt tiriamola fuori un manuale caricatore adesso non analizziamo meglio spina per il caricatore e qui da power station allora passiamo subito alla parte accessori che sono in realtà solo il caricatore quindi non entriamo direttamente con 220 volt ma bisogna avere sempre questo caricatore dietro esce a 24 volt 4 ampere 98 watt spina italiana come è fatta è fatta di questo colore che voi vedete arancione forse in video ma vi dico che dal vivo è un po più sul rosa le scritte sanfo qui davanti la grossa luce la ventola di raffreddamento che vedo anche di qua quindi doppia ventola ingresso dc sulla parte sotto abbiamo solo dei piedini in gomma il maniglione non c'è ricarica wireless allora qui abbiamo il display le due prese in uscita pulsante ac pulsante dc con i connettori a 12 5 milimetri e mezzo ce ne sono ben tre che noi forse non usiamo tanto ma se ne mettono tre vuol dire che li usano molto quindi abbiamo la parte in dc separata dalla parte in dc che riguarda le usb type sin e la quick charge 3.0 togliamo la pellicola a dimenticavo l'uscita 12 volt protetta da un tappo in gomma che tra l'altro devo dirvi è uno dei miei preferiti perché di solito sti tappi una volta tolti non stanno più invece questo per quanto semplice rimane bene in posizione come la mettiamo in carica inizia a caricare a 30 40 50 60 sale man mano di potenza vediamo quanto si stabilizza si stabilizza 101 watt l'alimentatore in uscita ne da 98 quindi ci siamo si è accesa la parte delle porte type c quando attacchiamo l'alimentatore automaticamente si accende anche la parte delle porte type c stacchiamo l'alimentatore ok adesso mi dice che è all'82 per cento e mi dà un'autonomia in minuti rimanente quindi riproviamo adesso ad accenderla allora teniamo premuto perfetto va tenuto un bel po accendiamo tutta la parte delle type c premiamo una volta accendiamo la parte in dc da 12.6 volt premiamo la parte a c che va tenuta premuta e quindi possiamo accenderle tutte e tre insieme mi visualizza un'uscita mi visualizza dc ac il 50 hertz e mi visualizza anche che si è accesa la presa accendisigari quindi spegniamo la parte a c ok la parte del 12 riguarda queste prese e la presa accendisigari la parte delle type c va invece tenuta premuta ma fa anche da accensione generale se proviamo ad accendere solo la parte a c non fa nulla quindi il tasto di accensione è sempre questo effettivamente è come immaginavo qua me lo dà in ricarica veloce vedete che sta partendo dovrebbe arrivare a 13 14 watt il mio telefono quindi per accenderlo tasto di on off la parte delle usb si attiva sempre vi dice però in questo caso che stanno lavorando ad esempio a 9 volt mentre per la parte del 12 e dell'accendisigari c'è un pulsante a parte per passare nella parte a c bisogna sempre comunque accendere anche la parte dell'usb un po macchinoso non abbiamo tanta scelta però funzionare funziona poi cosa manca manca la parte della luce quindi premendo e basta non si accende tenendo premuto si accende la luce premo di nuovo aumenta aumenta ancora quindi tre livelli poi lampeggia emergenza lampeggia veloce e si spegne quindi abbiamo cinque funzioni va bene facciamo qualche test allora intanto vi posso dire che mentre stiamo alimentando qualcosa in uscita abbiamo anche la possibilità di alimentarla in ingresso quindi in contemporanea si può utilizzare vediamo cosa succede attivando anche la parte a c noi stiamo sempre caricando a una settantina di watt prendiamo la pistola termica la colleghiamo qui ho varie regolazioni che mi permettono di variare la potenza quindi il display cambia e diventa uscita 37 watt proviamo ad aumentare ok qui siamo arrivati a 90 watt non ce la fa già più mi ha disattivato l'uscita c la riaccendiamo la mettiamo alla massima velocità 130 watt proviamo a salire 150 watt 200 300 watt e si è spenta riattiviamo l'uscita ok uscita ci siamo magari stacchiamo il telefono siamo a 120 watt 116 132 200 ma dopo un po' si stacca vediamo se il valore indicato è poi reale allora siamo a 1 ok vedete che quello che scrive in uscita purtroppo non corrisponde molto a cosa consuma realmente e mi sembrava strano perché siamo adesso a 200 watt saliamo vedete che siamo a 300 lui ne segna 222 quindi quando arriva sui 300 reali comunque va in blocco continuiamo a lasciarla in carica la faccia arrivare al 100% e poi proviamo con qualcosa di più piccolo iniziamo ad attaccare un carico diciamo sul 220 volt vedete che mi legge un consumo di 34 watt quando in realtà ci stabilizziamo sui 24 ovviamente si può usare in modalità ops perché avendo l'alimentatore esterno non gliene frega niente se è attaccato o meno quindi non abbiamo un tempo di intervento diciamo di distacco e abbiamo vedete una lettura sballata di una decina di watt proviamo ad attaccare un carico un po' più grosso tipo una pistola della colla a caldo vedete che abbiamo uno spunto ci stabilizziamo poi a 122 120 watt 114 giù di lì e salendo con i consumi siamo leggermente più allineati come lettura siamo sopra di qualche watt 5 6 watt più o meno vediamo invece come si comporta direttamente allora qui adesso stiamo alimentando un carico a 100 watt vedete che lo tiene senza problemi e con lo suo accumulo interno mi dice che abbiamo un'autonomia di 440 minuti circa questo ci consente ovviamente di usare poi le uscite anche in dc per caricare magari le batterie del drone un telefono e vedete che mi si accende al display la scritta usb a quindi sta alimentando il 230 volt le prese usb tipo a usiamo la type c per caricare magari anche le cuffie e vedete che lui continua a darmi un'uscita sia al 230 volt che la parte in dc adesso mi legge un consumo di 50 watt che riguarda il totale perché la pistola si è stabilizzata se io tolgo la pistola dalla colla caldo vedete che in questo momento con tutta la parte usb sta caricando a 23 watt se io riattacco la nostra spina gli da la prima botta poi si stabilizza perché la pistola è già in temperatura e in questo momento mi sta dando una cinquantina di watt mi sta soddisfando il bisogno di questo momento siamo al 99 per cento mi dà un'autonomia stimata di 700 e rotti minuti magari ho l'esigenza di caricarmi anche il trapanino l'abitatore perché sono in mobilità e ho qualcosa del genere da attaccare attacchiamo anche questa vedete che il consumo sale sta caricando quindi anche questi dispositivi funzionano regolarmente abilitando invece l'uscita in dc e sfruttando quindi la presa accendisigari spegniamo la parte c accendiamo la parte in dc sfruttiamo la presa accendisigari vedete che sta uscendo a 12 e 6 mi dà un consumo della parte che sta prelevando dalla presa accendisigari di 97 watt sono giusti reali molto precisi perché ad esempio in questo momento sto caricando tramite un cavo mc4 un'altra power station che non vi posso far vedere che su display mi sta dando una ricarica a 98 watt esattamente come l'uscita che sta dando sull'accendisigari quindi tutto quello che viene normalmente venduto per il 12 volt delle auto all'occorrenza potete portarvelo dietro e attaccarlo alla power station ok altro utilizzo ad esempio in questo momento sto sfruttando le due prese 230 volt per usare un alimentatore power delivery per caricare la pompa della xiaomi che avrei potuto caricare ovviamente anche direttamente e sempre tramite spina 230 volt sto caricando sempre l'altra power station misteriosa in questo momento sto tirando 130 watt 83% 220 minuti di autonomia stimata va bene però questi 600 watt che dovrebbe dare io vorrei vederli questo è un fornetto da cucina che io so usandolo con una sola resistenza quindi un carico resistivo molto semplice ad alimentare senza spunti senza cose strane dovrebbe tirare circa 600-700 watt vediamo un po' se riusciamo ad usare il forno accendiamo la parte C colleghiamo direttamente l'asciugo e proviamo a farlo partire ok siamo a 646 watt ecco adesso in questo caso sono partite le ventole quindi questa aspira questa butta fuori fanno un rumore tollerabile certo sono due ventole piccole che girano però necessarie in questo caso siamo al 35% mi dà un'autonomia di 20 minuti siamo a 19 vedete che scende molto velocemente però un fornetto quindi una resistenza un carico tra virgolette semplice ce la fa ad alimentarlo e siamo anche oltre i 600 watt dichiarati quindi quando partono le ventole si accende la spia quindi questa prova non pensavo non ero sicuro di poterla superare e invece la sta tenendo correttamente lo lascio qualche minuto per vedere che sia stabile il forno sta scaldando bene ok l'ho lasciata qualche minuto attaccata il forno sta scaldando molto bene quindi funziona tutto regolarmente ventole che continuano a girare lei è stabile il consumo si è stabilizzato la percentuale chiaramente scende all'occorrenza se dobbiamo usare magari in mobilità un fornetto portarci dietro qualcosa ce la fa tranquillamente a alimentarlo vedete che adesso si arresta mi dà poi questo consumo di 9 watt che verosimilmente potrebbe essere quello dell'inverter che al momento è acceso spegniamo la parte dell'inverter e torna a zero quindi quei 9 10 watt che ci dà di differenza in buona fede potrebbero essere quelli che legge come consumo sulla batteria da parte dell'inverter ho provato anche a far accendere ad esempio un microonde in questo caso non ce la fa perché comunque ha uno spunto quando parte che supera anche il kilowatt e non ce la fa ad alimentarlo ok facciamo il test della luce in un garage completamente buio accendo la luce al minimo quindi riusciamo ad illuminare abbastanza medio luce massima il led è molto grosso ma in realtà luce ne fa ma non puoi così tanta ok abbiamo fatto un po' di prove adesso ce l'abbiamo al 37% provo a caricarla dalla Type-C con un alimentatore tramite un'uscita Power Delivery in questo modo non si carica usando invece una uscita di un caricabatterie normale la mettiamo nella porta in in questo caso me la riconosce come Type-C a 5 volt allora parte la ricarica chiaramente sta caricando 3 watt quindi è pressoché inutile ok vi chiederete se questa Power Station possiamo caricarla in mobilità magari con dei pannelli solari purtroppo in dotazione non danno niente per interfacciarla ad un pannello fisso portatile flessibile o quello che sia chiaramente dovete procurarvi un pannello che abbia già un cavo come questo adattatore in uscita col jack da 5,5 o eventualmente costruirvelo quindi con due connettori MC4 e un connettore maschio farvi un cavo del genere perché non ha altri ingressi se non questo se comprate quindi un pannello portatile o vi costruite un cavo come questo adesso vi faccio vedere cosa succede se lo attacchiamo a un pannello portatile pieghevole e in questo caso vi faccio vedere un pannello da 200 watt che dovrebbe dare circa 20 volt quindi dovrebbe essere perfetto per caricargli un centinaio di watt sfruttando il sole ok pannello al sole collegato oggi non è una giornata di grandissima produzione però la power station sta caricando e sta caricando 40 watt quindi assolutamente ricaricabile anche in mobilità ok siamo giunti a fine video vedete che è molto portatile non è pesante è un plasticone sembra un po' giocattolosa quello sì però riesce a darvi sicuramente delle soddisfazioni se la scegliete esattamente per il vostro scopo il vostro scopo quale può essere sicuramente per un prodotto del genere che viene dato per uso esterno io adesso non sono stato a provare a buttargli acqua eccetera perché mi dispiacerebbe guastarla non ha delle certificazioni per stare alla pioggia però è fatta un po così un po ragged un po plasticosa poco delicata per portarvela in giro sbatterla in tenda sul camper eccetera quindi un utilizzo prettamente in mobilità avete visto che con carichi molto importanti abbiamo qualche difficoltà soprattutto se ci sono motori da far girare eccetera con un fornetto ad esempio anche oltre i 600 watt si è dimostrata comunque affidabile sicuramente ideale per mobilità caricare dispositivi attaccare alimentatori tutte queste cose quale fate senza problemi senza destinarla ad un utilizzo casalingo un prodotto che costa sui 350 euro circa è appena uscita magari scenderà poi di qualcosina si attesta su una fascia di mercato giusta non costa pochissimo non costa neanche un'esagerazione e soprattutto abbiamo un accumulo un po più grosso delle altre nonostante sia una tecnologia un po più vecchia cercate di capire se può fare al vostro scopo e nel caso sapete dove trovarla consiglio mio comprate la sua amazon perché così se non vi piace eccetera potete renderla ma al limite la prendete sul sito se vedete che costa qualcosa in meno vi lascio tutti i link in descrizione come al solito grazie di aver guardato questo video ne porteremo delle altre mi sto attrezzando per costruire una specie di banco test per fare delle comparazioni quindi non è escluso che io non faccia una comparazione tra questa piccola power station e altre due o tre piccole power station per avere magari un quadro più completo ci vediamo al prossimo video mi raccomando un bel like non costa nulla iscrivetevi al canale grazie da macidattoli